Tu che io sto allattando. Hai partito già? Ecco la puttanazza della madre di quel pilota gli ha detto che un cliente non gli ha dato il resto e quindi lui sta facendo il giro per andarla a beccare, vedi? No, ma fa di nuovo il tornante. Sta facendo gli otto nel cielo. Poi mi dite che questi fanno parte delle rotte aeree convenzionali. Ma che ci vien muerta e stramuerta almeno. No, no, sta tornando indietro, no. Ah, vedi? No, no, continua, continua a filmare. Io quando ero piccolo che giocavo con la pista delle macchinine facevo gli otto. Questo invece lo faccio con l'aereo. E non cagano in capo. Ma stai filmando? Hai centrato? Penso di sì. Stai vedendo? Penso di sì. Eh. Ah, filma, filma, filma. Filma fino a quando torna di nuovo indietro. Lo mostrano di nuovo tornando indietro, no? Questo fa sempre parte del complottismo, no? Il piccione della mamma questo, figli da zocco, la vuoi che ho guardato la d'Urso. Quanto io lo devo togliere il giro? No, non toglierei l'audio. Ah, lo tolto solo bestemmina. Che mi devono sentire, quei figli di puttana che guardano la d'Urso. Poi a 50 anni si prendono l'Alzheimer e dicono che è stato Cristo che gliel'ha fatto venire. Hai fatto il tornante e puoi chiudere, no? No, aspetta, aspetta, ma due volte l'ha fatto il giro già. No, due volte da quando stiamo filmando? Eh, da quando stiamo filmando, ne ha fatti di più, vedi quanti ne stanno, li cerchi, vi? Vabbè, quelli di sotto si sono spatti. Eh beh, sì. Sempre peggio, sempre peggio. Speriamo che quando torna a casa, cacchia mughiera, tu con tre mascole. Buh, figli da zoccoli.